L'Anzo Torinese, un italiano di 88 anni, alla guida della propria auto, ha investito un sessantenne ed è fuggito senza prestargli i primi soccorsi. È avvenuto a L'Anzo Torinese, dove l'uomo dopo essere fuggito dalla scena dell'incidente è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato per omissione di soccorso. L'uomo investito, ricoverato in un primo momento all'ospedale di Cirie, è stato trasferito al San Giovanni Bosco di Torino per l'aggravarsi delle sue condizioni, definite dai sanitari critiche. Grazie a tutti.